Al fine di consentire il corretto avvio della stagione calcistica 2021-2022 della C. Perugia e dando attuazione alle richieste formulate dagli organi di vigilanza, la Giunta Comunale di Perugia su proposta dell'Assessorato allo Sport ha approvato l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto sportivo Renato Cori. I lavori riguarderanno gli impianti elettrici e di videosorveglianza con specifico riferimento a sostituzione dei proiettori di illuminazione del rettangolo di gioco, intervento sui gruppi di continuità, interventi vari sugli impianti elettrici ripristino della funzionalità e aggiornamento del sistema di videosorveglianza con la sostituzione delle telecamere analogiche con altre digitali e sostituzione delle schede di interfaccia di alcuni tornelli che regolano gli accessi all'impianto. Tali interventi saranno effettuati prima dell'inizio del prossimo campionato di calcio di Serie B in programma il 21 di agosto.